un saluto a tutti amici e benvenuti alla recensione della mini tastiera wireless a 2,4 GHz di Elegant la tastiera è studiata e particolarmente indicata per l'utilizzo con android tv box smart tv console e mini pc come si presenta la tastiera allora come possiamo vedere è dotata sia di una tastiera qwerty che di un touchpad sono presenti inoltre dei tasti scorciatoia per l'utilizzo di quei dispositivi di cui parlavamo prima particolarmente per gli android tv box come potete vedere su questo lato è presente un tasto scorciatoia www.com abbiamo poi i tasti fn come sulle tastiere dei pc abbiamo poi altro tipo di scorciatoie ctrl alt canch and home inoltre sulla parte superiore invece abbiamo oltre al touchpad che ci consente di utilizzarla come un vero e proprio touchpad di un notebook quindi per muovere il mouse e su questa parte invece dove sono presenti queste lineette lo potremmo utilizzare per lo scroll sono presenti questi altri tasti dove abbiamo un tasto play pausa volume più volume meno avanti e dietro quindi per l'utilizzo di contenuti multimediali un tasto media player un tasto email un tasto mute un tasto che va a simulare il click del tasto sinistro dall'altro lato un tasto che va a simulare il click del tasto destro un tasto home per tornare indietro un tasto ricerca le freccette per i movimenti e un tasto ok molto leggera si tiene benissimo in mano la scrittura è veramente comoda e su questa parte abbiamo delle spie che ci indicano il questa lucettina ci indica quando premiamo un tasto quindi alla trasmissione il tasto della batteria scarica e altre e altre segnalazioni nella parte posteriore troviamo l'alloggiamento per le batterie funziona con due batterie a durano tantissimo e l'alloggiamento per il ricevitore usb che dovrà essere inserito all'interno del dispositivo con cui vogliamo utilizzare questa tastiera nella confezione è inoltre presente un piccolo manuale di istruzioni vi faccio vedere adesso come si interfaccia con un android tv box che ho a disposizione ho collegato la tastiera a un comunissimo android tv box vediamo un po come funziona parliamo subito del touchpad molto comodo molto preciso proviamo ad aprire una pagina del browser il touchpad funziona anche con con il tap quindi ci consente di cliccare come il vero e proprio touchpad da da notebook siamo su google proviamo a cercare una pagina scrivo tiscali come potete vedere si scrive veramente molto in maniera molto rapida e comoda perché i tasti sono larghi la tastiera si tiene bene in mano quindi è veramente un piacere utilizzarla io molto spesso la utilizzo mi fa utilizzare l'android tv box proprio come un computer quando devo navigare perché è comoda proviamo lo scroll come potete vedere se vado ad agire sulle lineette scrollo sulla pagina in maniera molto fluida e precisa quindi veramente molto 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 comoda volevo provare anche i tasti che simulano il tasto sinistro e destro del mouse sugli android tv box utilizzando il tasto destro si torna indietro come potete vedere sono tornato indietro al menu principale avrei potuto farlo anche con il tasto home con questi tasti freccia riusciamo a muoverci tra le pagine con ok confermiamo in più abbiamo la scorciatoia per l'azzeramento del volume come potete vedere e gli altri tasti che si utilizzano nei lettori multimediali per andare avanti e dietro fare play e pausa abbassare come potete vedere alzare scusatemi abbassare il volume con i tasti volume ho dimenticato di farvi vedere prima che sulla parte superiore della tastiera è presente un selettore on off per accendere e spegnere la tastiera e un micro usb per utilizzare la tastiera con un cavetto micro usb e collegarla direttamente ai dispositivi escludendo così la connettività wireless in definitiva il prodotto mi è piaciuto tantissimo si usa bene ci dà la possibilità di utilizzare al meglio i nostri dispositivi con i tasti scorciatoia e con tutte le varie funzioni il touchpad è perfetto veramente preciso e fluido ha un rapporto qualità prezzo eccezionale ed è sicuramente un prodotto da prendere in considerazione se state pensando di acquistare una tastiera wireless per i vostri dispositivi vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo alla prossima recensione